E poi la prudenza, nella vita spirituale, i padri dello Spirito, quante volte anche Sampio, nella direzione delle anime, il dominio di sé, che è alla base di ogni percorso interiore. Ma soprattutto su quell'invito di Gesù, che diceva ai Suoi, guardatevi dal lievito dei farisei. La prudenza ci mette proprio in questo percorso di non apparire, qualcuno dice, il lievito dei farisei è il lievito dei teatranti della fede. E attenzione che questo oggi è quanto mai da rimuovere, soprattutto nella testimonianza della vita nelle comunità. I teatranti della fede non abbiamo bisogno di fare teatro, ma inserisciti nel mistero di Dio attraverso, ripeto, la semplicità e anche la prudenza, come i serpenti, dirà Gesù. Maria ci aiuti nella fatica della fede perché la fede è dialogo, la fede è incontro, la fede è ascolto, la fede è intimità, la fede è guardare occhi negli occhi il mistero di Dio. Questa è la fede. Come del resto, la stessa cosa nella casa, nella famiglia. Nella famiglia questa è la fede che si innesta perché l'uno e l'altro, la coppia, marita e moglie, i fidanzati che preparano la loro vita per il dono, percorrono proprio queste costanti, sia anche per noi, per voi. Aiutati da Maria a compiere questo pellegrinaggio della fede, rimuovendo soprattutto la paura. Non abbiate paura dell'altro, non abbiate paura delle superiori, non abbiate paura, non abbiate paura. Ma mettetevi di fronte al mistero di Dio e allora ogni paura sarà guarita. E Maria sia madre e maestra nel vostro percorso e soprattutto nello slancio del dono. Non siate mai avare del donare la vostra vita a Dio per il bene della umanità e della Chiesa. Grazie a tutti.